pace e bene cari amici bentrovati in questa trentatresima domenica meditiamo sul testo di luca 21 5 19 siamo nel discorso apocalittico e gesù ci parla delle cose relative alla fine dunque noi prendiamo in particolare tre parole da questo testo ricchissimo primo discernimento l'importanza di discernere e capire come vivere bene il nostro tempo presente secondo testimonianza le persecuzioni e le prove sono una occasione per testimoniare la nostra fede terzo perseveranza ciò che conta è perseverare nel bene sino alla fine ma entriamo allora nel testo alcuni parlavano del tempio ammirando come fosse ornato di belle pietre e doni votivi e quel tempio di gerusalemme era magnifico imponente immenso per i giudei era anche il luogo della presenza di dio sulla terra dunque qualcosa che per loro era non soltanto il loro vanto ma anche indistruttibile eterno gesù è di altro parere dice infatti verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta ciò è realmente accaduto nel 70 dopo cristo infatti il tempio di gerusalemme è stato distrutto ma con queste parole gesù ci vuol far capire che ogni realtà creata avrà un termine qui abbiamo un primo criterio importante per discernere cioè per capire come vivere bene e se stiamo vivendo bene perché vedete noi a volte rischiamo di assolutizzare persone cose situazioni alla ricerca di una sicurezza che ci faccia vivere bene ecco noi tante volte abbiamo però sperimentato nella nostra vita che cosa che le cose finiscono che anche le persone migliori cadono che anche i soldi che abbondano possano improvvisamente svanire che anche la miglior salute può venir meno insomma tutto passa dice l'apostolo il mondo passa con la sua scena ma chi fa la volontà di dio rimane in eterno dove fondare dunque la nostra vita dove riporre la nostra fiducia cielo e terra passeranno le mie parole non passeranno dice il signore lui è l'alfa e l'omega il principio e la fine dunque siamo invitati a fondare bene su di lui la nostra vita a saper vivere bene delle cose che ci sono date a vivere bene i nostri affetti a dar fiducia agli altri certo ma a non riporre tutta la nostra sicurezza nelle persone nelle cose o vi ripeto nei progetti perché anche le cose che ci sembrano più solide possono avere un termine a questo punto domandano a gesù ma maestro quando accadranno queste cose quale sarà il segno che appunto stanno per accadere allora gesù anzitutto invita a non lasciarsi ingannare molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino ma non andate dietro a loro in ogni epoca ci sono sempre state persone che usando anche il nome di gesù si sono proposte come profeti definitivi rivelatori di misteri veggenti presunti medium e poi allarghiamo a pranoterapeuti maghi operatori dell'occulto e insomma chi più ne ha più ne metta uno potrebbe sorridere e dire ma chi ci crede in queste cose il problema è che quando arrivano momenti in cui ti ritrovi ad affrontare prove tribolazioni quando sembra che sta crollando ciò che hai costruito o quando devi prendere decisioni serie impegnative insomma davanti all'incognita del domani la libertà che dio ci ha dato un po ci spaventa abbiamo difficoltà a fermarci in preghiera a fare un discernimento serio maturo a fidarci di dio e ad accogliere anche la vita per come essa ci arriva e allora cerchiamo sicurezza dietro c'è in fondo il peccato del popolo d'israele ricordate quando uscì dalla schiavitù d'egitto mentre vagava nel deserto come mosè andò sul monte per ricevere da dio le parole e loro si fecero il vitello d'oro per sentire la presenza di dio con loro e quasi possederlo è la grande tentazione di possedere dio di possedere le risposte di avere tutto chiaro allora il signore ci dice non lasciatevi ingannare e vi assicuro che a volte si lasciano ingannare anche persone insospettabili perché siamo fragili avvertiamo la nostra creaturalità ma tutto ciò non si risolve nel possesso di dati ma in una relazione di fiducia con dio che siamo chiamati ad approfondire dunque non lasciatevi ingannare quando sentirete di guerre rivoluzioni non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose ma non è subito la fine ecco un altro criterio non lasciarsi terrorizzare noi a volte quando le cose hanno termine e parlo anche di cose serie dolorose perché cadiamo nel terrore perché in quel momento vediamo tutto nero pensiamo che è la fine di tutto non pensiamo solo alle guerre alle rivoluzioni a quando vedi quasi la fine della tua nazione ma pensiamo anche a quando vediamo crollare i nostri progetti quando arriva una malattia mortale che che ci tocca nel vivo quando magari muore una persona che per noi era era fondamentale perché arriva il terrore perché pensi che tutto abbia fine in quel momento e il signore invece ci ricorda no non è subito la fine non dimenticare che siamo in cammino non tanto è solo verso la fine ma verso il nostro fine e che anche se quelle cose crollano il signore è sempre con noi e in lui possiamo trovare forza per camminare affrontare ogni difficoltà ogni prova ogni sofferenza non dimenticare dunque dove siamo diretti come a dire se io sto camminando non so sto facendo un'escursione in montagna il mio fine arrivare in vetta devo mettere in conto che potrò cadere potranno arrivare anche delle perturbazioni ci potranno essere dei momenti in cui sarò costretto a fermarmi ci sarà la fatica ma non è la fine il cammino continua dopo questi criteri di discernimento ecco che il signore ci dà un'altra chiave bellissima della seconda parola la testimonianza dice prima che arrivi la fine di tutto e ci saranno sconvolgimenti nel cielo carestie e quant'altro metteranno le mani su di voi vi perseguiteranno vi porteranno in prigione trascinandovi davanti a re governatori a causa del mio nome allora avrete occasione di dare testimonianza questo nella storia già è accaduto per i giudei il crollo del tempio era la fine di tutto era la fine di un periodo di un'epoca di una storia e i cristiani in quegli anni sono stati consegnati perseguitati accusati ma quella è stata occasione per loro per testimoniare pensate ancora oggi leggiamo gli atti dei martiri ancora oggi i nostri fratelli e sorelle nella fede sono perseguitati in altre nazioni ma a volte nel nostro piccolo anche noi possiamo essere perseguitati quando un collega ti deride quando i compagni e gli amici ti prendono in giro perché frequenti la chiesa quando un genitore non capisce perché tu ti stai avvicinando sempre più al signore o magari senti nel cuore di seguirlo con tutta la vita dunque affrontiamo persecuzioni per amore del signore sì ma quelle sono delle occasioni per testimoniarlo che bello vivere anche le persecuzioni e le prove come una occasione ecco una chiave bellissima allora terza e ultima parola cosa è davvero importante cosa conta ce lo dice gesù con la vostra perseveranza salverete la vostra vita ciò che conta dunque è perseverare è bellissimo il termine greco che indica la perseveranza iupo monè e il saper sostenere i pesi come sapete le gare di sollevamento di peso l'atleta passa il turno quando solleva il peso e lo tiene per un po di tempo ecco perseverare vuol dire essere capaci di sostenere i pesi e mantenersi fedeli allora concludendo con una immagine diceva un'autrice noi ammiriamo il cavallo no la sua forza la sua prestanza la sua velocità ma prima o poi ci saranno dei deserti da affrontare in quel caso il cavallo non serve a nulla perché i zoccoli affondano nella sabbia il calore lo innervosisce e imbizzarrendosi da lì a poco si lascerebbe morire nella sabbia nel deserto abbiamo bisogno del cammello che passo dopo passo con pazienza e perseveranza col caldo in assenza d'acqua e di cibo lui cammina e ti aiuta e attraversa il deserto e arriva a una nuova fonte dove riabbeverarsi ecco chiediamo la grazia al signore belli carichi con non tanto le gobbe ma l'anima piena di lui e del suo santo spirito di perseverare anche quando incontriamo il crollo di certe situazioni anche quando affrontiamo persecuzioni sapendo che nelle sue mani neanche un capello del nostro capo andrà perduto dio vi benedica pace e bene